da quanto tempo non vedevamo un po di guadadadada in live col signor shield ma non ci siamo dimenticati e non ci per sfortuna vostra io non mi sono dimenticato che c'è questa ancora serietta da finire io personalmente io l'ho già detto a scegliere qui presente non mi ricordo un cavolo di dove eravamo rimasti voi voi avrete visto il gameplay di seguito quindi per voi non c'è stato il salto temporale per noi si guarda se non mi ricordo male eravamo ritornati nell'outworld tu non l'hai visto ancora sto gioco quindi nell'altro si nella tour di mi ricordo ma non mi ricordo che cazzo dobbiamo facciano andare tipo al turbine delle anime io mi ricordo così turbine delle anime mamma mia comunque ringrazio come sempre shield se volete venire in live raga i link stanno sempre tra l'altro shield qui qui presente sto indicando le cuffie tu che non mi guardi shield qui presente è stato anche l'idiatore del video della doom slayer routine cercatelo quel video link in descrizione no però cercatelo e ricordiamoci che c'è stato anche quel video che mi è passato con isabel spettacolare ah quello è bellissimo penso non mi ricordo ma io c'ho due emulatori della ps2 su pc non mi ricordo ma anche quale emulatore stiamo usando per per mortal com no non è questo perché qua ci sta barbie perfetto io devo ancora mandare la foto con l'icona di barbie explorer dietro la mia playstation una foto avevo letto che ho ritrovato la mia playstation 1 in cantina la nonna e dietro la scala tipo c'è alcuni giochi e tra questi c'è appunto barbie explorer che c'è l'icona il tito tipo a modo di pubblicità ma io non sono manco entrato in parsec in tutto ciò alzheimer sta cominciando a fare effetto di il tini sky ma hey si decide che lo con la che ciao zio ma io mi ricorderò le fatality di kung lao ah mi devo mettere le fatality è vero eh ah eh mi sento doppio via ma sta cosa del sito di doppio io sinceramente non l'ho risolta eh dov'è mi risolta un termine fammi vedere metti il fatto che posso vedere il tuo schermo solo con l'emulatore nelle app approvate no vai dentro sull'emulatore io se non vedo niente ah ah aspetta un attimo perchè mi devo mettere si vai tranquillo eeeeee 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 qual era il sito delle fatality? eeeh ma basta ricerchi su google shaolin monks lu kang eeeh 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 quello che guardo io è quello di gn eh quello di gl eeeh 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 eccolo qua Liu Kang perfetto adesso vai di qua mi sono quasi sono arrivato ah no mi sento ancora doppia ti senti doppio? si eeeh 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 questo è un problema di di sto cazzo di cosa qua eh il problema di questo ha sinceramente rotto il cazzo come le sei metto discord ti senti doppio? prova? si eeeh ma l'eco cancellation non funziona è un problema loro io come la devo risolvere? poi avevo riuscito a risolverlo no e non funzionava più questa qua di mettere le app provate e vediamo proviamo a mettere così off parla ah si si sente sempre tu lo stai vedendo tutto giusto? si si ah qua la si non so come risolvere la scelta non lo so non lo so oh for 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 e chiamiamoci su telegram come quello senti l'eco? andiamo? si qua lo sento pure io l'eco ma buona torniamo sul disco ma come cazzo li fanno le cose come le fanno le cose come le fanno e l'avevano risolta sta roba mo perchè ci sta sto cazzo Diego c'è? avviamo? ci sta? eh devi aprire il mulatore eh? sembra di no good ce l'abbiamo fatta what magic is this? andiamo avanti sa sa prova prova no no ok forse devo aprire e chiudere discord allora era f3 lo stato da caricare scusate ragazzi la lunga attesa dobbiamo andare qua dentro? ah vabbè oh non so dicevo sono arrivato al punto di un ritorno to doom punto di un ritorno? si quello che inizia a stare il palazzo? ehm no proprio sono ancora la lucella che hai dei no qui fa eh non ti serve nient'altro prima di andare ah ok dove vabbè? alla fabbrica argen dobbiamo buttarli fuori questi se non mi ricordo male aia bastardo la presa come si fa? come r2 è la presa buona mi oh uh eh cadi l'affancio scuro masco cade vado non mi ricordo non credo che si poteva fare la fatalità su di loro è morto? si ah qua da dove siamo saliti quindi dobbiamo andare di qua ok inizio a figurare un po' si ah lo conosci l'avevi visto già? buon appetito diabo buon appetito andavo via via e li via più via ma vi pare che non ci si non sta avendo accelerazioni o sbaglio? è solo durante il casting che c'è l'accelerazione no anche nei combattimenti eh buon appetito non so proprio che ultimo vediamoci che possiamo curarci salvando a scoprirlo prima no? beh salva pure si 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 come fai sempre? ne capi niente, ne capi niente ne capi niente è fatale più... in un stile dub c'è poi ne capisato ah ok, qua si cade, quindi è messo troppo easy ehi da qui sta scagliando da dove siamo? ah qua, ci ha aperto un po' è diverso beh ehi, sto chiamando x basta, vuoi tu? strano un attimo che... ok che fatality è? non lo so, a bel basso è una fatality che hanno messo in sto gioco ok oh no prova a fare l'altra casa a vedere se riesci a metterli... lo fa? ah, devi attaccare lì sotto? eh guarda sto bello c'è un f1 non lo so sempre pomodoro ah, secondo me ne dobbiamo azzerparli là sotto scommetti qua si apre la porta qua dici azzerparli qua 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 si apre? no ma che quanto tempo per attivarsi? comunque capitate a vedere tipo qualche video di Doom? degli easter egg? eh? eh praticamente nel secondo livello quello dalla cittadella praticamente dopo che che si è andato che c'è nella cinematic vediamo che c'è un ponte mezzorotto quando prendi quell'oggetto quale oggetto? eh tipo la lanterna va perché non cadi giù? no te ne affanculo giù niente non cadi ok la lanterna vabbè continuo praticamente nel ponte rotto se tu guardi a destra con il fucile con la mitralettrice con il colpo con lo zoom hanno messo Daisy sulla destra cioè si vede sotto il colpo si ho capito dove dici tu ho capito dove dici tu ho capito dove dici tu vabbè ma Daisy sta pure nel guarda guarda ma lo scherzo zitto così è diritto non lo so se deve dove dici tu Ok, mi ha capito che io non sono dito il tuo. Stagliamo anche il tuo. No, il fantasma verde è un easter egg di Commander King. E non è un fantasma, è un golden fish. Questo qua non si fa niente. No, ma quello poi si vede, si spiega un po' la mappa tra i segreti, il pace verde. Ma lì c'è una spada, la vedi? Sì. Non è che devi conficcare qualcuno là sopra? Dicci? Però non c'è nessuno qua. Guarda indietro. Dai, cosa va? Dope fish, scusami, ho sbagliato a dire. Dope fish. Dope. È un boss di Commander King quello là. Ma quello è facile da trovare. Daisy invece ci devi guardare bene. Io nella run che ho fatto in live non l'avevo vista, però poi dopo ho scoperto che ci sta. Oh! Oh! Ah! Guarda lì, sono rimasto aggrappato. Mortacci tu. No, bastardo! Aspetta un attimo eh. Ecco, ho salvato propriamente ci... Mia! Ma vattene a fa' il culo. Ma non ti usci. Oh, ma qua si scende eh? Ma qua si scende, fammi te. Ah, si scende perché vedo... vedo... Questi stanno sotto eh. Tu va. Sto sbagliato. Ah, ma lo buttiamo giù di nuovo. Quasi salta? Si. Ma sono incastrato! Guarda! Vieni! Ti ha incastrato la roccia. No, mi hai fatto cosa a me. Ma, ma... Viene sta cosa che quando uno va avanti... Ok. Via, via, via. Dio che parte brutta. Non dovevamo proprio scendere. Eh? Non dovevamo proprio scendere. Un'altra cosa sembra piuttosto pericolosa. Qua come si è per spiccarsi l'Ukane... Eh... Kung Lao. Questo vaso qua c'ha... Ma che serve la vita, ah? Il TATAN, no? Sembra luce. Sì. Questi stronzi... Sì. 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 Ma ci pensi che sto gioco l'abbiamo iniziato quando non stavamo ancora con l'emergenza coronavirus? Non lo vengo io. E lo finiremo... Quando non ci sarà più... La razza... Sì. Sì. Che! Che! non è understar non bello questo proprio so che crepiamo infatti ricarichiamola qui e non andiamo giù a stuji oh mambo aiuto forse non ci fossero domani ma si c'era pure un vaso la secondo me c'era la vita la dentro vabbè vabbè prenderla per poi riperderla esatto ah ma la c'è un segreto non c'è un segreto lo vedi la è rosso è vero non possiamo più spaccare le colonne ah è vero che noi abbiamo anche la multality da fare lo ricordi la multality due ce l'ho io no quella da tre quella la è quella che si espanda tutti gli avversari eh possiamo usarla qua adesso che arrivano tutti gli stronzini basta che noi dobbiamo a zepparli sotto a là basta che noi dobbiamo a zepparli sotto a là arrivo io so smart eh no ma perché te l'hai inquadrata troppo vedi oh io so smart eh no ma perché te l'hai inquadrata troppo che dolore che dolore io so il quick qual è la raris è quadratto no c'è una roba per salvare qua uomo di neanderthal ma che mi fa sempre ridere quando lo sento che vuoi di bimbi che è? quella elica lassù sembra piuttosto pericolosa l'Ucidienze deluco che dice uomo di neanderthal eh lì c'è il segrettino eccola son morto c'è anche... dio la profondità di campo in sto gioco no eh dove sto? perchè non ti sposta la... sai che si è bugato la telecamera aspetta ok che mi prendo di sto gioco che mi prendo di sto gioco io se sono stupido no 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 dai mi sa che mo... mo possiamo prendere quel segreto f1 dici che possiamo salire su... la lama? a salire sulla dama sai che possiamo salire da qua sai? no sono stupido no io non ci sto dobbiamo riuscirci ah ti fai male ah ti fai male ok ah che è proprio dolor fisico ah un po' di sciolta ah no aspetta ma forse è stesso da... la spada sgangherato trovami la parte quando dice sgangherato ti prego una lama è caduta nella stanza piena di cadaveri quindi dobbiamo salta per fare le effette con gli stoni ok girati di qua perchè sta di qua il coso facciamo così f1 ma io non lo vedo tu lo vedi tu no ricarica che adesso prendo le botte eppure non è che ci possiamo arrampicare sulla colonna se vai sulla lama credi no 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 siamo stupido di noi o troppo nascosto se eppure mi metto però in giro no e qua non si va ma ci deve stare il modo per per arrivarci scusami eh ok sulla lama ti fai male ok e questo si è capito però se faccio un salto e infatti visto deve fare il salto dove sono io? il tuo cazzo col salto ci si arriva questo qua è con quello r1 x e sta sempre su vai tu? uno di noi deve stare sempre sopra lo so che non ti fa vedere manco lo sta quindi so che non ti fa vedere manco lo sta quindi e questo è il suo 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 niente va bene te e tu? ti hai tutto tre quarti cazzo ma fallo morire qua ma andiamocene via arrivo che ce ne fott nulla ah tutta sta parte ma c'è marone tanto per cambiare ce la può fare ce la può fare che si stronti via via no no mannaggia via ah ok ho capito come funzionano gli scheletri via 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 che mi ha preso? lo scheletro? no f1 vai 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 che menzio via sai che ci comenta? tornare indietro, salvare un paio di volte e ricaricarci la vita al massimo si infatti te lo so per dire anch'io no ignorali no stai divasi non ignorali via di qua era il salvataggio mi sa di sì è l'anticamera no era quella dopo era quella dopo ancora che palle si era stiamo andando un po' a ricaricarci la vita eh uomo di neam eccolo ma bisognava salvare o bastava i cinocchiarsi? bastava i cinocchiarsi bastava i cinocchiarsi vabbè non è così mi è tutto il sangue ti mangi in dalle sottolo ti mangi scusate un po' lana con l'eternità e usci da fuori tra poco ha giusto un po' tra poco Shade farà un po' fit tu bastado umizioi MED Dai fanno al masco Via 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 Che poi uno dice Non vuole fare degli stereotipi Ma io ho spedito un pacco in Sardegna E sai come si chiamava la strada? No Come si chiama il luogo dove si porta a Pascolare? Via dei Pascoli Via del Greggio Via del Greggio Ah perché C'è la via dei Pascoli Si riferiva a Giovanni Pascoli Uno non vuole fare stereotipi però I Andiamo Poi comunque è sciabola C'è Noi ci affacciamo le fatali Squartiamo le persone C'è un cappello che taglia No Dobbiamo fare tutto il Cristo di casino Perché dobbiamo prendere la sciabola Ma scuartali è questo Oh Shansung Dai e finisce Dai Quelli stanno parlando il sardo ragazzi Un'altra parlando il napoletano Oh Lishito Adesso è il maestro La scienza è un da giovane Oh lui da giovane Infatti non è questo Lui da giovane Si è ringiovanito Sì che sberra che tira Poco sangue Non ho tempo da perdere con voi Le vostre anime non sono degne di alimentare il mio potere E Uccidili Uccidili Pensavi fosse finita E invece Presto distruggiamo le tombe delle anime Ah ok c'è ancora la sciabola E' detto a quello fur In questa stanza Ok gli fai malissimo Vai vai Tutto scura andata Ma sei da cara qua Avecsi Deve essere distrutta Ah è una punta la smerla Eh ma è caduta Cioè che O dopo un po' si toglie O no Si distrutta Ah ma non è davvero Oh ma non è davvero O no E' addosin Oh ma non è davvero Non è davvero Che vado Allora Allora O Ah Toma Allora 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 il launch? qual è il pulsante? è dai due mamma mio ok, finito? penso proprio che si torniamo semplicemente indietro, si apre un portale o qualcosa del genere non ci ho detto nulla vai qua qua dove vuoi tu vivi? ma ma se mi uscite come quel Tarkat che è rimasto in video che dobbiamo? buona ventina usciamo da sta zona forse è un arrivarà la valide mi distrutto un pozzo delle anime faici uscire da qua faici uscire vogliamo uscire buono ho visto il gameplay e hai detto che siamo qua lontano? ecco qua, vedi? no lo so però per dirti tu credi davvero che sia così facile sia questo gioco? cioè non solo è brutto ma dura anche poco? è brutto e dura pure comunque la spada è difettata, adesso lascia le scire ma che scoveraccio ma che scoveraccio ok ancora? buona, questi sono finiti non è ci vorrebbe essere aperto un'altra cosa no, io so questo, no è rosso lì ho capito, non c'è la decola verde sì, è nuova zona questa è il resto di passi quando acquisti non c'è la ventropote la balla tu ma io non è una vergine di ferro ai 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 se ti sposti io lo butto là è una ronta di coglione ma mi sa che li dobbiamo buttare là dentro scommetti bene ce l'ho wow che dolore vediamo se ce ne sono altre qua sì, ce ne sono altre qua no, ma non succede niente sennò faceva il suono toto toto dove andiamo? qua al sinistro o andiamo qui? e non lo so un f1 intanto ok, vediamo di qua dobbiamo tra l'altro affondere delle anime credo dobbiamo trovare il contrapeso di sta porta dobbiamo trovare sicuramente qualche contrappeso tipo infilzaccio raggiate dentro non si commetti ah eccolo là, vedi? lo vedete il contrapeso? ma c'è qualcuno qua ma non si azeppa no? no, forse è dentro una cosa simile a porta boh, vediamo arrivo no, forse è la paura aspetto di pollo fatality un po' sciotto di pollo noto atto, grazie andato giù con scialata ti tutti ma sono ce la c'è tipo Ah, fanno il ruolo già Che animazione brutta quando salvo, no? Interagisci Una statua intrisa di energia maligna ti impedisce di proseguire Solo un po' di energia maligna può distruggere Ecco Ah, siamo venuti qui solo per un segreto Allora, sembra mi cazzi Ho bloccato un nuovo filmato Wow Io pensavo che fosse tipo legnosa la rampitata dello Slayer Questa Allora Che stregoneria è mai questa? Ah, ma te Ma te faccio te, vieni con me Non posso credere Dici che È così complicato Aspetta un attimo F1 Che quasi cade proprio Easy Easy F1 Mi devo saltare anche io con i pugni di grande le camere Ok Baraka Cioè guarda Ti rendi conto? Super guerrieri di sto cazzo Non saltano un muretto È bello che fanno anche il salto più alto Dalla staccionata Mi sono appena preso questo Cos'è? Cos'è? Io non riesco a vederlo Mi dici il titolo? Solti in Powerhead E ho t-19 Retrowave Corrido Aspetta un attimo Con un Klao Attacco Che si chiude la fiesta Ok ci sono Ok Operativo al 100% Perchè mi hai portato indietro sto gioco? No Come si faceva? Oh Dio Adesso iniziamo con queste cose Metti alla prova la tua forza Che ce la faccio? È troppo ragazzi È troppo difficile Vedi se a te te la fa un po' più leggera Metti alla prova la tua forza È difficilissimo Hai visto? Eh Metti alla prova la tua forza Niente ci sono riuscito Mi sono messo manco a guardare Champions Oh Pac-Man gratis Fatto che c'è prova Scendimolo Adattiva Ci pareva Non mi ha dato niente Così Ah Scusa Grazie Grazie per la segnalazione Bel bus È preso Qual è il nome? Pac-Man? Championship Edition 2 Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza Ma è impossibile Ragazzi ma che è? Metti alla prova la tua forza Cioè siamo bloccati qui Vedi Ma non è che devi farlo pure tu X Ma non è che funziona Ma vedi a un certo punto non sale più Parte spanata poi non sale più Eh non sale proprio Cioè sto premendo ma non sale Cioè Cioè Boh Che merda è? Usi dalla mappa Abbiamo l'impressione No Aspe Ok Non ci dà nulla da poter potenziare qua No No Metti alla prova la tua forza Ciao Sadi Ma non è che devo tenere premuto R2 Non ci riesco, è troppo Ma che ne faccio? Ma poi dico io, ma che non lo facciamo insieme? No raga, ma è impossibile Per i quasi tu però Perché va giù? Sto premendo la stessa velocità Vabbè è stato bello No, per me no, Jenny Metti alla prova la tua forza No Io non guardo Ma almeno ci arriva un po' in su Sì Ma possiamo stare qua tutto il tempo? Ah vai a cenare, buon appetito Spiegatemi noi come andiamo avanti Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza Eh? Nooo Siamo fatti, ho appoggiato il pad su questa linea Ma io sto facendo così da sempre, Vivi Ci sto premendo forte su Guarda che merda Non guardare lo schermo Fallo senza guardare lo schermo Concentra di solo sul pad Dicci? Sì E poi devo premere un pulsante Ah è Ah è Sì Manca un po' Guarda lo... Nooo È arrivato? È arrivato quasi Il copo è sceso subito Metti alla prova la tua forza Ok ho capito come si fa Non devi mollare neanche un po' la X Se no cade Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza È una cosa impossibile Non potete capire quanto io faccio Non la vado Oh no È impossibile Sì Siamo noi cretiri Oh boh Ok Metti alla prova la tua forza no perchè ti dice che devi fare le reti premere la X guarda provate ne è premuto ma non credo non credo che va sarebbe stato facilissimo ma non c'è un trucco per sta cosa è bello che ti ride pure in faccia la cosa più fastidiosa è morto si ti fanno ricomparire pure i nemici ti rendi conto ok poi si sfondai i joystick sti cosi vai 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 mannaggia ok no vai no perché ci bugate le camera pure non ce la c'ho più no ma vabbè è buggato no secondo me è semplicemente stronzo perché ce l'avevo oh 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 si no c'era anche l'1 da prendere c'era un solo metti alla prova la tua forza no ce l'avevo quasi fatto guarda quanto scende mi fa male il gomito io non ce l'ho più mai fa male l'avambraccio una cosa alluciante metti alla prova la tua forza mi spaccherò il controllo e mai giuro l'ultima cosa che faccio hai detto vai 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 non va ma no che prova che prova ma cosa che prova Metti alla prova la tua forza Mi sono arrabbiato Sto usando la rabbia adesso Usa la rabbia Usa la rabbia Asper mi doveva le cuffie Perché mi fanno infucare la testa Metti alla prova la tua forza No che è successo? Metti alla prova la tua forza No asper E' perso la tua forza No vabbè ce la faccio più raga Ce la faccio più Sto esplodendo Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza No La parte finale è di una bastardata allucinante Metti alla prova la tua forza Ma è scelto No stavo salendo veloce Ma perché? C'ho tutte le falangi dell'indice Che urlano pietà E' una cosa più assurda E' una cosa più assurda Ma hai affrontato Metti alla prova la tua forza Non è questo il dito che devo usare Ma io dico che dopo questo possiamo fare Dooma ultra nightmare senza alcun problema Non mi fa ridere Non mi fa Io ci sono stanco Sta cominciando ad arrivare la follia Metti alla prova la tua forza No mi asabbio Per Doom Ce la faccio più Alla Mok Shenzung Metti alla prova la tua forza A me sai che mi urlta Che tu prima ce l'avevi fatta Mannaccia la p***a Allora provare quel cazzo il testo di L1 Ho sbagliato Vabbè te sforzano Te sforzano ce la fai Possiamo attivare tipo Il turbo hack O qualcosa Dici tu Proviamo No così è ancora peggio Così è impossibile Metti alla prova la tua forza Ce la faccio Ok Metti alla prova la tua forza Ma qualcuno può vedere se c'è un hack qualcosa Perché veramente qua è proprio da cheat Non è umanamente accettabile Questo che continua a riderti in faccia La prendiamo Con questo stronzo E facciamo a me E poi basterebbe fare un saltino E andare Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza Sto diventando una sfida contro Adesso siamo contro noi stessi Metti alla prova la tua forza Dio santissimo No basti Guarda a vedere se c'è un'attenzione Metti alla prova la tua forza Ma là ci sono altre due leve Non so se le hai viste Dove Vedi ce ne stavano a lato A sinistra Mi suicido direttamente Vivi Questa bella cosa Ahia che dolore Vedo se trovi cheat Perché mi so il tuo cazzo Sai che cheat Se non serve A fare Questo mini gioco Da casa Sì 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 No, 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 no. Oh. Madonna C'è un cazzo eh, non c'è nulla che ti spiega Ehi, dobbiamo spaccare i nostri controller Ed è sfido però Ma che succede qua? Succede che non è un tuo cazzo Deve essere una cosa più costante Vai che stai salendo benissimo No Aia Ok Vai 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 Nooo ti è finita ma che ce la stavi a faa Non ce posso crede Madonna mia Vai 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 Ma vedi quanto scende È una cosa assurda Metti alla prova la tua forza Phil l'ha presa sul personale No Metti alla prova la tua forza Phil aiutami tu Vai 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 Nooo Aia Metti alla prova la tua forza Cioè ma hai visto quanto ti abbassa un certo punto? Stava andando così bene Metti alla prova la tua forza 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 Cioè io non lo so Questa è proprio È proprio un attentato al gameplay di un giocatore Tu lo fai arrivare fino a qua e poi ci metti sta roba qui Sempre chi ci è arrivato fin qua Qualcuno l'avrà finito sto gioco Ci sarà il modo di farlo Metti alla prova la tua forza Vabbè con la sinistra già la faccio roba È impossibile Mi fa male a me raga Mi fa male dal gomito Tutto Mi fa male tutto A me fa male l'indice Mannaggia A me mi urta che prima ce l'aveva fatta Mi sta urtando sta cosa Metti alla prova la tua forza Battuti da una leva No ma questa è proprio fatta basta Io credo che comunque dobbiamo sbloccare qualcosa Secondo Io spero che oltre a quel cancello ci sia uno squillo di russo Shao Kain che ti dice Sì sì sei tu il migliore Perché dio mio è impossibile Di una leva di merda Questa che livello è c'ho scritto Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la tua forza Mi auguro saranno leve più leggeri di questa Cioè è proprio questa che è bastardo Abbiamo avuto difficoltà in precedenza Ma così è troppo Cioè tu non dai la possibilità a uno di farlo Cioè guarda sto premendo Arrafico O sbacchi il controller Che quello gli dà le botte sbumbum Non credo Io ringrazio il dio che hanno tolto queste meccaniche di merda Sì pure io penso sia sbagliato Perché prima ho premuto leggero Adesso ho salito bello sopra Metti alla prova la tua forza Ma la cosa che mi dà fastidio Che vedi Alla fine ti sfotto Ti dà quella cosa Per dire ce la sto facendo E poi Non si può Non si può fermare un gioco così Nooo Metti alla prova la tua forza E vedi perché se ci fai forte non te lo dà Devi stare un po' più calmo Metti alla prova la tua forza Vedi questa me la sognerà stanotte Nel link di me la sognerà stanotte Nel link di me la sognerà stanotte Devi trovare l'input giù perché come molli la X cade da giù e non sale più Fai una macro che spamma Eh ma questo è con il controller Metti alla prova la tua forza Non devi andare veloce no Non velocissimo Veloce Ma dai Ma stavo salendo Visto come mi è crollato due volte E non avevo perso il ritmo Ma che cazzo E' fatto apposta No E' fatto apposta per farti intossicare E basta C'è stavo salendo E' sceso di botto due volte Che c'è Anattale mi regalmo con controllo E' come chiamare la midway Dire mortacci tua dita morta E' impossibile no E' impossibile Usa questa posizione Metti alla prova la tua forza 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 Ma tu non ti ricordi come hai fatto qui La stessa tecnica che sto usando sempre Con l'avambraccio appoggiato E con l'altra mano Tengo prendo il controllo Metti alla prova la tua forza Metti alla prova la 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 forza il gioco ok proviamo a vedere pensi che risalva la risalta pure mi sta sul cazzo che ti vede in faccia io avevo abbassato il volume di parse che pensate io che dicevo poi mi alleno dopo che ho finito il gioco per farmi doom eternal a night ma e poi ultranight ma questo è già un allenamento per poterlo fare ma funziona f3 per evitarlo accuratamente cosa per evitarlo accuratamente no perchè vale ha detto mi ricordi il titolo del gioco ok mortal kombat shaolin monks quanto non ho messo ok forza braccio ok 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 forza braccio ok 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 no ok 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 La tua forza Sì No Quei secondi in più servirebbero Beh basterebbe anche che se premi Quasi senti in città non ti si abbassasse come una merda Se il boss finale dei giochi Se il boss finale di tutti i giochi Ma non lo vedo Cioè io non vedo proprio niente Essere o non essere Ok Cioè o parto bene E poi sta a metà Sempre che scende in un quarto Tutta la sua madre Proprio Io voglio sapere chi è il genio Mettiamo queste cose di merda Vorrei proprio stringerli la mano Al genio Che ci stanno all'indietro Stanno all'indietro ma Quasi ancora una virus bambini Ci sta abbassando le difese immunitarie Probabilmente ci ammazzerà Dio Le falangi dell'indice Che dolore Ma io credo che per forza di là dobbiamo andare Perché qua sta la porta chiusa Che dolore Grazie a tutti No, mai che si è superato Grazie a tutti 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 Resisti Grazie a tutti Allo Grazie a tutti Scusate Un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Mano Grazie a tutti Andiamo Grazie a tutti Cosa che Perché stai Sì? Grazie a tutti Grazie a tutti Oh no! Niente La cosa bella è che ho salvato qua Davvero vedi? Sì Cioè non è basta a best rocce Cioè non sta pure sto tutto in culo Finisce 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 C'è un po' di coglioni C'è un po' di coglioni Cosa sta mangiando? Si è curato il figlio di pittà Questa è rotta in culo Ha rotto il cazzo Poi c'è una fatale di sicura E baffanculo Quindi arrivano altri treni Cazzo Io gli sto tirando le robe addosso Io gli sto tirando il mio cappello da mezz'ora L'unico attacco a distanza che c'ho L'unico attacco a distanza che c'ho Vivi salvamo Ci convivo No salvo No salvo Oh Cosa dobbiamo fare? Qua è da dove siamo venuti? Si Uè ciao Jess Buonasera No allora aspetta No aspetta aspetta Tu Però Cioè non possiamo fare niente Qua non si adampica C'è il muro ruolo No E' tutto il suo casino E' tutto il suo casino per picchiare questo? Bu Adesso lo dobbiamo andare Abbiamo Abbiamo Ci sono Ah proviamo a tornare indietro dove si fa quel laser Ah ok 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 Dobbiamo 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 Noi ci carichiamo anche la vita Si Strucchi in culo dei coglioni Che ti sei persa Jess Oh Dio Carichiamo fino al massimo così va bene Carica ca Ma allora Ma che vai Fai pure il salvatare Eh che cazzo Sti taccata Ci hanno levato la vita che ci avevano rimesso Ritorna Salva No No Non è che da muovo Non è scio Però potevano sfaminarsi e facevano ogni volta questa nuova azione Ancora Ok Faccio Fai i serviti Ah Ma porco di quelli Ok 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 Andiamo a salvare Ok Si Vai salva qua Facciamo senza manco sevi set No Eh no Sono stupido Tanto per recuperare la vita Fai il salvataggio Ho il memory card E poi faccio il serviti E chiudiamo Ok basta Cioè A parte che devo andare a cenare, proprio basta Io chiuderei proprio la live Ma per sempre Mi ha levato l'energia per le prossime Vent'anni di live, hai salvato? Sì, ho salvato F1 E come dice il signor Cannavacciuolo Addios Addios Grazie Shield, eh, per la pazienza Io credo che là alla fine Dovamo capire solo come Affrontarle Però vabbè, non è stato intuitivo Per niente E quindi niente Mi dispiace Per quelli che si sono subiti Tutto questo in live, complimenti Che è arrivato alla fine di questo video Venite in live a dirmelo perché Seguite il link della descrizione Ci vediamo dopo scena o al prossimo gameplay Che credo Shade non verrà mai più A chiedermi Già prima non veniva più Mono, secondo me Vuoi giocare a Mortal Kombat? Forse No, vabbè, però Visto che in questi giorni siamo in quarantena Shade più vieni Più ce lo leviamo dalle balle Dimenticheremo per sempre questo incubo Va bene? Sì E fu così I prossimi giochi facciamo Paperino Pippo Topolino Ci vediamo le cose di Paperino Pippo e Topolino Sì Giochi per bambini Giochi per bambini di due anni Quelli facili Facili Va bene Scalla Scalla Chiudiamo su strazio Pippo e Topolino Pippo e Topolino Per bambini di due anni Grazie a tutti